E allora, visto che è un po' così sempre per aria, abbiamo pensato all'uccellino della radio. Sentite un po' come fa. Maestri? Nella stazione radio stamattina vive in una grande agitazione Per un fatto grave, si indovina, siamo tutti in apprezzio. Ingenie, tecnici e tattori stanno muti a dir l'annunciatore. E fa ben durati ascoltatori, con la voce scossa dal tremor. Della radio il tuo signor, sua mattina tre su voi, al suo libero cielo potuto ritornare. Nella gabbia fritto, rimane, fa male in cuore. E poi passerò dentro il cuore a cinque giorni. Una casserretta la chiamò, gli disse ci, ci, ci. All'amore non puoi dirvi no, e l'uccellino di non lo fate appassandare. Non vorrà più ritornare. Nel suo volo d'amore, il tasturbo, il suo sol, l'uccellino della radio rispondi. All'amore non puoi dirvi no, e l'u Tacki, il suo sol, l'u Pagliari, il suo sol, l'u Pagliari, il suo sol, l'u Pagliari, il suo sol. Non lo state ad aspettar, non vorrà più ritornarmi. Non lo state ad aspettar, non vorrà più ritornarmi, non vorrà più ritornarmi. Non lo state ad aspettar, non vorrà più ritornarmi.